Interventi urgenti a tutela dell'arenile e a chiederli con forza sono gli operatori turistici e alcuni cittadini di Villammare dopo l'aggravamento dell'erosione costiera come testimoniato dei danni subiti con le ultime mareggiate da case e fognature incontrata a Santa Maria Le Piane. Asso Turismo ITR Vibonati, il distretto turistico del Golfo di Policastro, l'Associazione Commercianti di Villammare, l'Associazione Artigiani del Golfo e la Comunione Legginestre con il Costituendo Comitato Villammare-Terramia sono pronti a dare battaglia. Hanno sottoscritto una lettera indirizzata al Sindaco di Vibonati e ai consiglieri di maggioranza e minoranza in cui chiedono misure urgenti e inderogabili, non solo per contrastare l'erosione costiera di Villammare, intesa come progettualità a medio e lungo termine, ma anche per garantire nell'immediato la stagione turistica 2020, secondo loro a rischio per la scomparsa della spiaggia e la decisione dei turisti, anche abituali, di cominciare a rivolgersi altrove. Nella missiva i proponenti chiedono che il Consiglio Comunale di Vibonati si impegni e deliberi all'unanimità prendendo atto di questa drammatica situazione e che la questione venga affrontata durante il prossimo incontro del tavolo tecnico sull'erosione nel Golfo di Policastro che si terrà il 29 novembre in provincia a Salerno. Le associazioni sollecitano il Comune di Vibonati a chiedere, proprio in questa occasione, finanziamenti per interventi immediati in attesa del piano di azione complessiva che riguarderà l'intero Golfo, un'opera di ripascimento del litorale di Villammare e l'utilizzo di barriere di protezione temporanee a garanzia del fronte spiaggia. Nella lettera si evidenzia anche la necessità di coinvolgere tutta la società civile che è direttamente interessata, visto che il problema non è solo ambientale o turistico, ma sta assumendo connotazioni che investono anche l'incolumità pubblica con il mare che ha iniziato ad attaccare impianti e abitazioni. Di qui la richiesta ultima al Consiglio di organizzare un'assemblea cittadina per informare e sensibilizzare la popolazione affinché si possa affrontare in maniera coesa la battaglia che non ha, sottolineano i promotori, nessun colore politico.